Vocal Synergy, dieci ragazzi bravissimi con una sinergia possiamo dire Anita che avete perfettamente sincronizzato. Il nome vuol dire proprio questo, sinergia, armonia, energia, condivisione, quello che noi cerchiamo di proporre attraverso le nostre voci, attraverso la nostra unione anche se vogliamo, siamo una famiglia. E tenere dieci persone in un'unica linea, in un'unica coerenza è un lavoro molto difficile. Sì, ci vuole anche tanta preparazione, tanta passione, costanza, pazienza da ambo le parti, supporto e sopportazione reciproca. Il vostro repertorio, leonarcon abbiamo sentito durante il festival l'esibizione di Alleluia, una versione un po' gospel, però quali sono i generi che amate frequentare? Allora il nostro repertorio spazia appunto tra i classici della musica gospel ma ci affacciamo anche a molti arrangiamenti pop internazionali, e molte cover appunto riarrangiate, sempre in uno stile molto fresco, molto moderno che ci caratterizza. Ecco, possiamo a beneficio ai nostri ascoltatori e diciamo in visione, se avete un sito che possiamo, una pagina Facebook, Instagram, così vi possono seguire? Sì, 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 assolutamente, su Instagram, su Facebook, ma anche semplicemente su YouTube, basta cliccare Vocal Synergy e ci trovano. Su Instagram? Solo con la Y in finale. Benissimo. Ci sono degli omonimi, abbiamo scoperto, però noi siamo gli originali e ci tengo a dirlo. Perfetto, e per darvi una briciola, vi facciamo sentire un po' la chiusura di questa canzone, di quanto sono bravi i Vocal Synergy. Un po' la chiusura di questa canzone, di quanto è un po' la chiusura di questa canzone, di quanto è un po' la chiusura di questa canzone.